Gli agenti della divisione anticrimine della Questura nel mese di gennaio, in seguito ad accertate violazioni delle prescrizioni imposte a due persone residenti a Novara, hanno chiesto all'autorità giudiziaria l'aggravamento delle misure cautelari in capo agli stessi. Nello specifico, in un primo caso nei confronti di un 42enne di nazionalità italiana, già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa per il reato di atti persecutori nei confronti di una giocattiva. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.